Due ipotesi di abuso d'ufficio aggravata dalla finalità mafiosa, che ai calabresi sarebbero costate 2,9 e 4,2 milioni di euro. Soldi stanziati dalla regione per l'impianto scistico di Lorica, soldi che il governatore Mario Liverio si sarebbe prodigato per far erogare a beneficio degli imprenditori in odore d'indrangheta Giorgio Barbieri, la cui azienda era invece al collasso economico. Soldi che per lo stesso Barbieri avrebbe convogliato nella cassa comune del potente clan muto di Cetraro. Sono accuse pesanti e circostanziate quelle contenute nell'ordinanza firmata dal GIP di Catanzaro Pietro Care, accuse che potrebbero porre una pietra tombale sulla legislatura del lupo dell'asila. Oliverio, secondo l'accusa, avrebbe agito in particolare con il concorso dello stesso Barbieri e del direttore dei lavori Francesco Tucci per un mero tornaconto politico, vale a dire si legge nel capo di imputazione per ripagare Tucci e Barbieri che ne avevano assecondato gli interessi a Cosenza. I due, secondo l'accusa, avrebbero dato rassicurazioni ad Oliverio e poi si sarebbero fattivamente adoperati per rallentare strumentalmente i lavori pubblici su Piazza Bilotti e per pregiudicare così sul piano politico elettorale il sindaco di Cosenza uscente, Mario Occhiuto. In realtà, emerge dalle carte dell'inchiesta anche Occhiuto, non indagato, ad un certo punto chiese di rallentare i lavori ma per una finalità opposta e per certi versi anche analoga. Tra un mandato e l'altro temeva che Piazza Bilotti potesse essere inaugurata dal commissario prefettizio. Insomma, uno scenario desolante che non solo svela i torbi di rapporti tra le alte sfere della classe dirigente calabrese ed un'imprenditoria da tempo nell'occhio del ciclone per i propri affari con le cosche, ma anche l'uso strumentale e personalistico del potere e di fiumi di denaro pubblico per bassi interessi di carattere politico in una terra sempre più devastata da coloro che alternandosi la governano da un quarto di secolo. Pietro Comito per la CINUS24.